Allora, l'abbandono dei rifiuti, piccoli o grandi che siano, è un problema che l'amministrazione comunale ha nella massima attenzione e sta monitorando questa situazione per cercare di evitare che il fenomeno assuma proporzioni rilevanti. Nonostante questo, i costi e gli interventi per risanare queste situazioni rappresentano un fatto molto rilevante. Noi nel corso di questi primi sei mesi abbiamo quantificato in circa 33-34 mila euro il costo di questi interventi, di rimozione degli abbandoni, sia di discariche, di inerti, di rifiuti sulle strade e sulle aree pubbliche o private. Arrivando alla fine dell'anno probabilmente questo costo raddoppierà. Siamo impegnati nel bilancio comunale a provvedere nei limiti del possibile, ma si preoccupa il fatto che poi queste cose possono ampiamente dilatarsi. Noi quindi temiamo di dover far fronte con risorse più rilevanti e questo lo dico con una certa preoccupazione perché sono risorse dei cittadini novaresi e quindi destinare oltre quasi 90-100 mila euro a conti fatti per questi interventi così straordinari e purtroppo incivili fa rammaricare molto. Allora ci rivolgiamo ai cittadini novaresi per informarli di questa gravità, di queste grave situazioni, per sollicitarli anche un'attenzione e una vigilanza verso questo fenomeno, per far sì che se si vedono rifiuti, se si vedono persone che abbandono, si segnalino questi abbandoni e naturalmente anche per far sì che anche i cittadini, dove dovesse capitare, se hanno bisogno di conferire dei prodotti di rifiuto, lo facciano nelle aree deputate. Ricordo che l'isola ecologica dell'Asse in via Sforzesca è sempre aperta, anche al sabato mattina è a disposizione di tutti, dove si possono conferire tutti i materiali e quindi gratuitamente, e quindi si ben si usi questa possibilità perché questo ci consente di differenziare, di smaltire correttamente e di non spendere tutti questi soldi perché a queste risorse, questi costi a cui facevo offrivimento vanno aggiunti poi i costi del personale comunale, dell'Asse che deve sovrintendere, fare le fatture, andare a vigilare, fare le fotografie, fare i verbali, quindi andiamo a costi esorbitanti e tutto questo si scarica sulle spalle dei cittadini. Quindi un invito a far sì che una vigilanza su questo aspetto sia necessaria e utile sia da fare. Ci sono sanzioni che possono arrivare fino a 500 euro, poi dipende dalle conciliazioni, in alcuni casi si è potuto anche individuare attraverso riferimenti lasciati in prossimità di questi rifiuti la responsabilità, il nome delle persone, sono purtroppo pochi questi casi perché ovviamente si sa che la gente è ben attenta a non lasciare impronte personali, però è rilevante la sanzione perché in una conciliazione si possono arrivare a 50 euro ma dipende poi dalla tipologia dell'abbandono, se fosse eternito o altro, come spesso troviamo nei nostri discarichi, i costi sono rilevanti per chi commette questi abbandoni. Noi purtroppo possiamo in questo momento solo attutire, solo fare in modo che l'effetto di tutti gli abbandoni sia il meno percepito possibile, però non sempre riusciamo a farcele. Il giorno in cui puliamo in un luogo, il più delle volte, il giorno dopo, quel luogo è di nuovo imbrattato. Gli sforzi che l'azienda fa sono moltissime, le risorse che vengono spese e sono risorse dei cittadini, sono risorse aziendali che comunque fanno parte delle risorse dei cittadini, non danno quella sensazione dell'impegno veramente cospicuo e giornaliero che viene profuso in questa direzione. Noi ci appelliamo al senso civico di tutti i cittadini corretti che aspirano al decoro di questa città, faremo in modo, insieme all'amministrazione comunale, alle forze della polizia municipale, molto importanti in questo senso, perché le regole vengano rispettate e perché possiamo vivere tutti insieme in una città più accettabile e più pulita anche in termini ecologici e ambientali.